Gestivano una vera e propria clinica privata all'interno di una struttura pubblica, l'ospedale Sarkone di Terlizzi. E' questa la pesante accusa rivolta dalla Guardia di Finanza di Molfetta a tre medici, il primario del reparto di oculistica del nosoconio terlizzese Antonio Acquaviva e a due medici oculisti esterni alla struttura, arrestati per reati contro la pubblica amministrazione. Le indagini sono state coordinate dal procuratore capo Carlo Maria Capristo e dal sostituto procuratore la dottoressa Simona Merra. Dagli accertamenti compiuti dalle fiamme gialle sarebbe emerso come il primario agevolasse il ricovero in reparto dei pazienti seguiti da due medici esterni. Quest'ultimi effettuavano visite di interventi in maniera abusiva all'interno dell'ospedale, utilizzato in tutto e per tutto come una clinica privata. Nelle cartelle cliniche dei degenti ovviamente non venivano riportate diagnosi, esami, condizioni cliniche, prestazioni effettuate e prescrizioni terapeutiche, in modo tale da non consentire l'esatta ricostruzione della storia clinica di ogni paziente, soprattutto nel caso di eventuali complicazioni. Grazie a questo meccanismo, i tre camici bianchi potevano intascare il denaro delle visite e degli interventi, in violazione delle specifiche norme in materia sanitaria, e arrecando un danno patrimoniale alla ASBARI 2, quantificabile all'incirca in 140.000 euro. Mediante l'agevolazione dei ricoveri dei pazienti e dei dottori abusivi, successivamente operati dagli stessi, il primario faceva infatti lievitare le spese della pubblica amministrazione. A questo va anche aggiunto l'indebito utilizzo delle strutture del reparto, da parte di due manici esterni, come la sala operatoria, i posti letto, o come nel caso del lavoro nero dell'infermiere. Non è la prima volta che il nome del primario, Antonio Quaviva, viene tirato in ballo nell'ambito di inchieste sulla sanità. Già nel febbraio del 2011, il medico era stato sottoposto a misure interdittive nell'ambito di un'indagine sull'allora assessore regionale alla salute, Alberto Tedesco, ora senatore del Partito Democratico, responsabile, secondo l'ipotesi degli inquirenti, di aver favorito proprio l'attuale primario, nella nomine all'ospedale di Ternizi.